Maria è la donna che sa custodire nel suo cuore il passaggio di Dio nella vita del suo popolo. Con lei il Dio bambino imparò ad ascoltare gli aneliti, le angosce, le gioie e le speranze del popolo della promessa. Con lei scoprì se stesso come figlio del santo popolo fedele di Dio. Lo ha ricordato Papa Francesco nell'omelia della messa celebrata nella Basilica Vaticana in occasione della solennità di Maria Santissima Madre di Dio, cinquantesima giornata mondiale della pace. Maria ha proseguito il pontefice, ha saputo custodire gli albori della prima comunità cristiana e così ha imparato ad essere madre di una moltitudine, trasmettendo a tutti noi quel calore materno che ci avvolge in mezzo alle difficoltà. Una società senza madri, ha aggiunto Papa Bergoglio, sarebbe non soltanto una società fredda, ma una società che ha perduto il cuore, che ha perduto il sapore di famiglia. Una società senza madri sarebbe una società senza pietà. Iniziare l'anno contemplando il volto materno di Maria ha detto il Papa, ci protegge della corrosiva malattia della orfanezza spirituale, quella orfanezza che l'anima vive quando si sente senza madre e le manca la tenerezza di Dio, quella orfanezza che viviamo quando si spegne in noi il senso di appartenenza a una famiglia, a un popolo, a una terra, al nostro Dio. Quella orfanezza che trova spazio nel cuore narcisista, che sa guardare solo a se stesso e ai propri interessi, e che cresce quando dimentichiamo che la vita è stata un dono, che l'abbiamo ricevuta da altri e che siamo invitati a condividerla in questa Cassa Comune.